Il motivo per il quale la crisi economica oggi è impatta soprattutto sui giovani e figli di questa storia. Stiamo pagando un po' le conseguenze dei nostri padri, fondamentalmente. Sì, stiamo pagando il fatto che per tanti anni in Italia la politica ha avuto in questo le principali responsabilità, dal sistema pensionistico fino ad arrivare a quello che è accaduto nel pubblico impiego, dove è stata un'esapiaugente di quella che serviva. No, è bello a parlare. I italiani morono di fame, sti cazzi. Grazie Roma, che ce lo butti sempre al culo Roma. Voi lavorate dal martedì al giovedì, è giusto che prendiate 20.000 euro al mese mentre un operario deve la... Quanti con prende? 800 euro al mese? No, ne prendiamo di più, ma non ne prendiamo 20. Ecco, tutte le agevolazioni vostre, io dico agevolazioni al ristorante, aperitivi. Sono in realtà aperitivi, no? Ah, da leggine che fatturate tutto, dai. Non hai sbagliato persona, grazie mille. Stai parlando la persona sbagliata. La persona sbagliata. Ho leggetto l'unica persona che è vicino al mondo giovanile, dai, per favore. Grazie mille. Mi chiamo la persona sbagliata, sconsigliata. Grazie mille, perdono. I festini non li fa ancora? No, non li faccio i festini, non li ho mai fatti in vita mia, i festini. Quindi quando parli con qualcuno cerca di interrogarmi. Mi stanno sgamando un buco alla volta, mi stanno sgamando un buco alla volta. Già, dai.